In una lettera del 21 ottobre del 1949, Aldous Huxley ringraziava l'ex allievo del Leighton College, George Orwell, per avergli spedito una copia del suo nuovo romanzo, 1984. Huxley si mostrava entusiasta del manoscritto, ma si permetteva di notare la differenza sostanziale tra il modello di dittatura dolce immaginato da lui in Il mondo nuovo, pubblicato 17 anni prima, e quello invece cupo e sadico descritto allora da Orwell. Scriveva infatti Huxley La filosofia della classe al potere 1984 è una forma di sadismo portato alle estreme conseguenze e verso la sua soluzione logica, andare oltre il sesso e negarlo. Credo che le oligarchie troveranno forme più efficienti di governare e soddisfare la loro sete di potere e saranno simili a quelle descritte in Il mondo nuovo. Huxley si mostrava convinto che nel prossimo futuro i governanti avrebbero assunto la forma della dittatura dolce, in quanto avrebbero trovato nell'ipnotismo e nei metodi farmacologici della psichiatria un'arma decisiva per spiegare elementi e il volere delle masse. Un'ipotesi che il romanziano inglese avrebbe confermato nel 1958 nel suo saggio Ritorno al mondo nuovo. Il materialismo e la volontaria ignoranza dei nostri padri, spiegava Huxley nella lettera, hanno solo fatto slittare di cinque o sei generazioni la rivoluzione globale, in quanto i politici non si sono ancora convinti ad abbracciare l'ipnosi e i barbiturici come forma di manipolazione di massa. Ma al momento stava arrivando, profetizzava Huxley, perché la psicoanalisi dopo il fallimento di Freud stava di nuovo recuperando l'ipnosi come metodo di cura. Grazie a questo cambio di rotta, il potere si sarebbe presto convinto a ricorrere all'ipnosi e alle tecniche di condizionamento farmacologico per controllare e manipolare le masse in modo da attuare quella che Huxley definiva la rivoluzione definitiva. Scriveva ancora lo scrittore e saggista britannico, «Entro la prossima generazione chi tiene le redimi del mondo scoprirà che il condizionamento infantile e l'ipnosi indotta dalle droghe sono strumenti di dominio ben più efficaci di armi e prigioni e che la sete di potere può essere soddisfatta nella sua pienezza, inducendo le persone ad amare il loro stato di schiavitù, piuttosto che ridurle all'obbedienza a suon di frustate calci. Insomma, penso che l'incubo descritto in 1984 sia destinato a evolversi in quello descritto in il mondo nuovo, se non altro come esito di una necessità di maggiore efficienza». Huxley concludeva la lettera, ammettendo però il rischio incombente di una guerra atomica o biologica, nel cui caso dovremmo confrontarci con incubi di ben altra natura. Ai metodi repressivi oggi si preferisce ancora affiancare la cosiddetta manipolazione dolce, volta a far credere ai cittadini, secondo la lezione di Huxley, che costoro siano liberi di scegliere quando invece tutte le loro decisioni vengono decise e orientate dall'alto. In entrambi i modelli di totalitarismo, cupo e dolce. È però fondamentale la propaganda, di cui poi i media di massa e lo spettacolo in generale si fanno docile cassa di risonanza. Nessun regime può infatti sostenersi senza di essa, così come paradossalmente proprio le democrazie occidentali fanno ricorso alla manipolazione capillare dell'opinione pubblica. Ed è proprio a partire da questi argomenti, soprattutto da questi due modelli, il modello di totalitarismo cupo di George Orwell e il modello di dittatura dolce di Aldous Huxley, che svilupperò questa nuova rubrica orwelliana che è ospite del canale YouTube dell'amico e filosofo Diego Fusaro.